eccoci qui ragazzi ben ritrovati buona giornata buon sabato buon inizio di fine settimana allora allora facciamo qualche aggiornamento di mercato soprattutto dal punto di vista delle cessioni perché sono quelle che pinto deve assolutamente fare per entrare nei paletti del fair play finanziario entro il 30 di giugno deve raccimolare questi questi 30 milioni di euro e ci siamo ragazzi penso che ormai li abbiamo raggiunti visto che dopo la cessione di taylor vince per otto e mezzo all'ajax e ieri c'è stata l'ufficialità anche della cessione di clivert a titolo definitivo al bormut 11 milioni di euro più uno di bonus quindi anche clivert finalmente lascerà definitivamente la capitale anche perché l'anno prossimo sarebbe andata a scadenza e da considerarsi anche se non c'è l'ufficialità praticamente venduti sia missori che volpato al sassuolo per una cifra vicina ai 10 12 milioni di euro quindi se ci facciamo i calcoli insomma ragazzi abbiamo raggiunto questi 30 milioni di euro tenendo presente che comunque altri giocatori sono in lista per essere ceduti e che sicuramente si proverà a mandare via in maniera definitiva e vale a dire i vari Shomurodov, i vari Vigna che per adesso non hanno trattative concrete Casdrop si registra un interessamento concreto del Fenerbahce, se ne sta parlando sulla base di circa 12 milioni di euro mentre c'è un po' di stallo tra il Celta Vigo e la Roma per Carlesperes perché non si sta raggiungendo l'intesa sulla cifra la Roma vuole 8 milioni, il Celta Vigo è fermo a 5 speriamo che anche questa trattativa possa andare in porto al più presto perché ragazzi a noi questi giocatori non servono per cui tocca darli via assolutamente e poi rimangono sempre sul mercato giocatori come Zaleschi e Spinazzola lì dove dovessero arrivare delle offerte importanti per poterli dar via ieri era circolata anche una voce non so quanto fondata ragazzi di un'offerta di 60 milioni di euro per Pellegrini rifiutata dalla Roma e lo stesso Lorenzo non ha voluto neanche sentir parlare di mettersi a tavolino con i dirigenti del Newcastle per parlare del contratto non so se sia una fake questa qui io sono solo ragazzi che se fosse vera ce l'avrei accompagnato in braccio Pellegrini a Newcastle, vi dico la sincera verità perché un giocatore come Pellegrini che viene valutato 60 milioni io non vedo come possa essere rifiutata una richiesta del genere secondo me è fake ragazzi perché sennò sarebbe veramente stato un delitto non venderlo poi ognuno la pensa come vuole ma io Pellegrini se arriva un'offerta di questo tipo lo vendo subito poi ognuno, ripeto, la pensa come vuole sul foronte entrate ragazzi invece ci sono un po' di interessamenti di giocatori nuovi c'è questo interessamento della Roma per Yulmand del Lecce incontrista arrotino che tutti noi ricordiamo per tutti i falli perché all'andata se non sbaglio fu espulso a Roma-Leccia ritorno, zaccagnò a destra e a sinistra come un arrotino maledetto a Aureliano non gli chiede un giallo a fine partita proprio per esasperazione perché ha fatto un milione dei falli giocatore di sostanza ragazzi però non vedo come possa essere utile alla Roma sinceramente c'è l'interessamento per questo attaccante brasiliano di nome Salvio detto anche Savigno se non sbaglio giocatore di proprietà del Troyes Troyes se non sbaglio squadra francese che però l'ultimo anno è andato in prestito al PSV in dove in 19enne di talento però anche qui ragazzi mi sembra un giocatore veramente acerbo non so quanto sia vera sta trattativa che si sta intavolando è un giocatore che sicuramente poi deve andare in prestito perché se no ragazzi fa la fine di tanti altri giocatori che la Roma ha preso giovani tipo Gerson tipo Huchan non so se vi ricordate che sono rimasti due anni a Roma a fare panchina e poi sono andati via Iedevai pure mi ricordo centrale croato non so se voi lo ricordate qualche anno fa quindi si regista per questo attaccante l'interessamento c'è sempre l'interessamento nuovo per un giocatore dell'Empoli il giovane Cambiaghi che è un giocatore di talento a me piace molto che si è messo in luce nell'ultimo campionato nell'Empoli trequartista di talento ripeto sembra che ci sia stato un interessamento chiaramente l'Empoli spara alto sui 20 milioni insomma mi pare un po' prematura adesso parlarne ecco e per quanto riguarda l'attaccante invece non ci sono novità tra Morata e Scamacca insomma rimangono in stand by ma non c'è una trattativa concreta nell'imminente che possa essere portata a termine staremo a vedere se magari nei prossimi giorni intanto la Roma rinuncia alla tournée in Corea del Sud che avrebbe dovuto fare a luglio per problemi logistici quindi non andrà in Corea a fare questa tournée secondo me è anche meglio perché comunque tutti questi spostamenti durante la preparazione il fuso orario secondo me danno più problemi che che benefici chiaramente è sempre una questione dei soldi dei sponsor in questo lato però sembra che alla Roma ci ha rinunciato quindi evidentemente non era una situazione così importante da poterla confermare ecco altri movimenti ragazzi per questo momento non ce ne sono ripeto la Roma è concentrata sulle cessioni secondo me dal primo luglio una volta sistemato i conti poi si procederà agli acquisti quelli belli pesanti speriamo tutti noi si registra anche sempre l'interessamento di ZA del Crystal Palace svincolato che però piace molto anche alla Lazio sembra su Moussa Dembélé non ci sono notizie sempre svincolato dal Lione per il centrocampo interessamento per questo giocatore del Lecce penso che ormai Frattesi sia conteso tra Milan Inter e Juve a meno che non ci sia un ritorno clamoroso della Roma se dovesse fare qualche vendita eccellente magari di belle cifre vedi Banetz in Inghilterra Gli Orente ragazzi si è un po' frenata la trattativa perché c'è l'accordo con il giocatore ma non c'è l'accordo con il Leeds perché chiaramente il Leeds lo vuole vendere il suo giocatore è inutile far prestiti su prestiti secondo me vuole l'obbligo di riscatto a cifre importanti e la Roma sta cercando di lavorarci forse questa è una trattativa che andrà in porto forse a fine mercato per i portieri non ci sono novità tranne quelle che vi ho detto settimana scorsa stigioni di Collini e Cechire come portieri alternativi a Rui Patricio Cosvillare in prestito nessuna acquirente per Belotti Solbacchene Sciarawi e compagnia bella e niente ragazzi questa è la situazione di questo fine settimana chiaramente se ci saranno novità sarà mia premura informarvi e niente ragazzi godiamoci sto fine settimana e speriamo insomma di poter dalla prossima cominciare anche dopo gli acquisti di Awari Indica di di vedere qualche altro acquisto importante ecco buona giornata ragazzi e sempre Forza Roma